Buongiorno, oggi siamo ad Ascoli Piceno, nelle Marche, e questo è lo stadio Cino e Lilo del Duca. Lo stadio fu eretto nel 1955, ma fu inaugurato nel 1962 con una partita tra le rappresentative direttantistiche di Italia e d'Inghilterra. Lo stadio inizialmente aveva anche una struttura polifunzionale, quindi aveva una pista di atletica che poi fu praticamente eliminata nei lavori di associazione successiva. Nel 1974 un imprenditore di nome Costantino Rozzi fece dei lavori di strutturazione. Lo stadio inizialmente era di un anello solo, fu costruito un secondo anello, e lo stadio può contenere 13.000 spettatori. È situato sulla salaria, e inizialmente lo stadio si chiamava Delle Zeppelle perché questa è località Delle Zeppelle. Siamo in una zona est, siamo in una zona est di Ascoli. E vedete lì c'è un murales che ricorda il grandissimo presidente dell'Ascoli, Costantino Rozzi. L'ampio parcheggio di fronte allo stadio. Qui nel 1980, negli anni 80, dal 1975 in poi, l'Ascoli fu proposto in Serie A, Rozzi acquistò l'Ascoli, qui vennero a giocare i più grandi giocatori degli anni 80 dei nostri club. Vi ricordo lo scontro tra i fratelli Maradona, Ugo e Diego, qui in questo stadio. La partita finì 2-1 per il Napoli. Quella è la parte superiore, fu edificata successivamente perché inizialmente lo stadio aveva solo il lato inferiore. Il lato superiore fu costruito in seguito. Questo è l'ingresso, noi siamo dalla parte opposta della tribuna, qui abbiamo le due curve. Qui abbiamo una curva, questa è la tribuna centrale, e di là abbiamo l'altra curva. Il panorama intorno comunque è suggestivo, molto bello. I Monti Sibillini, li possiamo vederla in fondo. Questo è lo stadio Cino e Lillo del Duca. Il Viale, che vedete qua, si chiama Costantino Rozzi, intitolato dal grandissimo presidente dell'Ascoli Calcio. Che praticamente fece la storia, oltre a sistemare lo stadio e renderlo molto bello, moderno, già ai tempi moderno, con questa costruttura, con queste curve a forma ellittica. Qui fece la storia dell'Ascoli, tenendo una squadra in Serie A per un decennio, sfiorando la Coppa UEFA in un paio di occasioni. L'Ascoli, oltre al famoso Maradona, fratello che con Diego non ci trova niente, qui giocavano Bredi, nell'Ascoli, Zaiò, il primo giocatore africano della storia del calcio, Zaiò, Juari. E vennero a giocare i più grandi, lo ripeto, i più grandi giocatori del calcio, qui negli anni 80 venivano a giocare qua. Qui vennero a giocare Rummenigge, vennero a giocare Platini, vennero a giocare Maradona, Gullit, Van Basten, Falcao, ecco qua. Ciao alla prossima!